L'estate a Chioggia Sottomarina è stata l'insegna della musica, musica di tutti i tipi, dalla lirica alla house. Mancava forse solamente l'hard rock, la cuna colmata con la kermess Are You Ready? Le chitarre distorte, i giubbotti in pelle e la musica più carica sono stati protagonisti di questo mini festival dedicato al rock più duro, ospitato all'Arena d'Use di Sottomarina. Un'intera serata dove le band rock più amate in città hanno suonato senza risparmiarsi. Certo il pubblico non era numeroso come negli spritz più gettonati in riva al mare, ma l'atmosfera è stata carica per tutta la sera. A salire per primi sul palco, i giovanissimi Thunderbolts che hanno regalato ai presenti, oltre ai loro pezzi, anche una pregevole e rispettosa versione di Switch Out of Mine dei Guns. A seguire Dream of Illusion, una band di legnago che ha scelto invece di proporre pezzi del proprio repertorio. Davvero molto bravi, hanno già un demo pronto e sono in attesa di una casa discografica che li produca. Applausi anche per More Than Human, una band la cui fama si è diffusa anche all'esterno, e per i Brooken, nati da poco come il cover band degli Iron Man. Spazio anche agli Oltrezona, che hanno chiuso il concerto, e ai Whedhaven, band che ha saputo regalare anche pezzi più morbidi, con un suono che in certi momenti ricordava quello dei Muse. Sogna con noi, Arena! A You Ready è stata una kermessa riuscita all'insegna del rock, così finalmente anche gli amanti del genere hanno trovato il loro spazio e la giusta visibilità. Grazie!